vedo con piacere che finalmente si comincia a dare un peso alle parole in che senso nel senso che verba volant sono anni che verba volant parolacce a gogo così slang a gogo e invece le parole hanno un peso le parole sono come pietre molto spesso anzi quasi sempre le brutte parole e vedo con piacere in televisione che si comincia ad analizzare il fatto che le parole hanno il loro peso bene sono contento questo è un passo avanti verso un futuro in cui finalmente si cercherà non di censurare ma di usare le parole adeguate nel momento adeguato e non le parolacce naturalmente grazie a tutti